In questo numero della newsletter vorremmo parlare del progetto che abbiamo denominato Nexa City. Si tratta del tentativo di avvicinare gli studi che portiamo avanti qui a Nexa, alle questioni della vita quotidiana delle persone. La nostra idea è che il digitale, come oramai è anche risaputo, influisca sulla nostra vita quotidiana e per questo abbiamo deciso di riportare alcuni contenuti già presenti sul sito del centro Nexa, articoli scientifici, interviste, seminari, workshop, conferenze, dentro una nuova interfaccia, cioè l'interfaccia di una città del futuro che abbiamo per l'appunto denominato Nexa City, all'interno della quale abbiamo individuato una serie di aree che a nostro modo di vedere rappresentano meglio le trasformazioni della nostra vita quotidiana dovute al digitale, come per esempio le nostre abitazioni, la piazza del mercato, il palazzo di giustizia, il museo, l'ospedale, la banca, insomma ci sono tutta una serie di luoghi, il campus, tutta una serie di luoghi che noi riteniamo significativi. All'interno abbiamo creato dei percorsi di comunicazione trasmediali, cioè abbiamo utilizzato una serie di modalità di comunicazione differenti dal video al radiodramma, le interviste oppure anche gli articoli sia scientifici che di divulgazione, per fare in modo che le persone possano entrare progressivamente all'interno delle tematiche che noi riteniamo più significative legate al rapporto fra il digitale e la nostra vita quotidiana e un esempio che vorrei portare perché lo trovo particolarmente ben riuscito e completo è quello del cimitero. Può sembrare strano che abbiamo deciso di popolare per primo il cimitero, ma questa è una sorta di dichiarazione di intenti, come ho detto vogliamo che Nexa City si occupi di far vedere il rapporto fra le tecnologie digitali e la nostra vita quotidiana e quindi quale evento più universale della morte e del modo in cui oggi ci relazioniamo con questa esperienza grazie anche alle tecnologie digitali. Allora a questo proposito abbiamo costruito un radiodramma scritto da Francesco Ruggero e Mattia Plazio, due colleghi del centro Nexa che hanno inquadrato le problematiche con cui ci possiamo scontrare quando fronteggiamo la morte servendoci delle tecnologie digitali. Poi abbiamo mostrato un seminario tenuto dentro al centro Nexa da Davide Sisto, un filosofo dell'Università di Torino che ha appena scritto un libro, un saggio scientifico che si intitola La morte si fa social. Poi abbiamo costruito un'intervista doppia, parallela, in cui abbiamo fatto dialogare Davide Sisto con Adezeno che è un romanziere che affronta il problema del rapporto fra la morte e anche le tecnologie digitali nella forma della letteratura. E infine abbiamo costruito una serie di interviste ad alcuni fellow del centro Nexa oppure a esperti che gravitano attorno al centro Nexa di varie discipline affinché mostrassero come dal loro punto di vista scientifico si possano trarre alcune conclusioni alla fine di questo percorso formativo che abbiamo messo in piedi e che poi è lo stesso che proponiamo ai nostri lettori. Il prossimo numero fra virgolette di Nexa City lo chiamo numero nel senso che sarà il prossimo ambiente che noi popoleremo con questa strategia di comunicazione trasmediale e il museo perché ci vogliamo occupare del tema del cultural heritage ma ogni palazzo di Nexa City, ogni zona di Nexa City è comunque popolato da contenuti che riteniamo significativi. Per poter avere una visione di insieme di tutto questo abbiamo costruito anche una metropolitana, una mappa della metropolitana che collega tutti i palazzi della città e all'interno della quale è possibile vedere tutto ciò che noi abbiamo reso disponibile alla navigazione all'interno di Nexa City. Vorrei ringraziare oltre al personale del centro Nexa e ai nostri direttori che hanno reso possibile questo progetto anche gli studenti di ingegneria del cinema perché il corso di ingegneria del cinema e anche i suoi direttori hanno ritenuto significativo avvicinare gli studi del centro Nexa a una platea di pubblico più ampia e diversa rispetto a quella verso cui comunica il sito istituzionale del nostro centro e con grande entusiasmo devo dire gli studenti di ingegneria del cinema hanno costruito Nexa City, l'hanno proprio realizzata in 3D, l'hanno resa sia un sito web che un'applicazione navigabile attraverso altri device e addirittura hanno portato avanti delle sperimentazioni che io trovo particolarmente interessanti, per esempio costruendo dei chatbot che automaticamente interagiscono con con gli utenti di Nexa City per presentare loro alcuni dei contenuti della città sempre nella fattispecie quelli legati al cimitero in una maniera innovativa e per alcuni versi anche sorprendente. Questa collaborazione andrà avanti e speriamo che appunto anche tramite la newsletter e l'interesse che questo progetto susciterà la città si popolerà sempre più di contenuti interessanti.